Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori, questa è la nostra pagina sportiva, partiamo parlando del momento caldo che sta vivendo lo sport pistoiese in questi giorni, quello che riguarda appunto le arancioni, la pistoiese perché dopo l'esclusione del campionato, le delusioni che sta vivendo appunto il club Orange, ci sono pesanti punti interrogativi sul futuro del club, vediamolo insieme, quello che si prospetta appunto per la squadra con Giada Benesperi. È quello che più interessa ai tifosi della città di Pistoia, sapere quale sarà il futuro del calcio arancione, domanda che non trova certo ora le risposte a pochi giorni dal fatidico giorno dell'esclusione della pistoiese dal campionato di Serie D e con un'istanza di fallimento fissata per metà maggio. Certo è che le voci iniziano a rincorrersi, i primi rumors ci sono, fra queste quella che un gruppo di imprenditori molto conosciuti possono essere interessati a far rinascere la pistoiese in qualche modo. Si parla di un'ipotesi di coesione fra main sponsor, vannunci piante, a fianco dei colori arancioni da più di 30 anni, insieme ad un altro nome molto conosciuto in via delle Olimpiadi, l'azienda Fabo S.P.A. Di Larciano, leader internazionale della produzione di nastri adesivi, la famiglia Fanni è stata al vertice del club molti anni fa e è quello di Gabriele Giusti, titolare della nuova Comauto per tanti anni, patron della Ianesi. Il suo nome è una suggestione che più volte è aleato sui colori arancioni, senza mai però che avvenisse niente di concreto, chissà se adesso è arrivato il momento e se davvero qualcosa bolle in pentola. In attesa di sviluppi, se o meno resteranno idee o se qualcosa si muove davvero in questa direzione, nelle ultime ore l'imprenditore genovese Sergio Iorio, CEO di Italmatch Chemicals, ha scritto una lettera rivolta al sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, e alla città di Pistoia, tornando a manifestare l'interesse per la pistoiese. Già a dicembre 2021 Iorio si dimostrò disponibile a trovare una soluzione, anche se inizialmente parziale nel momento della vendita della società da parte della famiglia Ferrari, ma non andò a buon fine. Mi impegno, scrive Iorio nella lettera al primo cittadino, a ricercare la migliore soluzione per creare una nuova pistoiese, confrontandomi con le istituzioni, tifosi, FIGC, Lega Nazionale Dilettanti ed eventualmente curatore fallimentare, per aspetti tecnico-legali e soprattutto per ricostruire un gruppo azionario serio, solido, motivato e professionale. Potrei diventare azionista di riferimento insieme a nuovi azionisti, che però condividano gli ideali per un calcio pulito fondato su trasparenza, valori, professionalità e passione. Entro la fine del mese di maggio presenterò un progetto a 360 gradi, che comprenda obiettivi sportivi prima di tutto, ma anche settore giovanile, infrastrutture, con aggiunta anche di iniziative sociali con visibilità nazionale, molto vicine al calcio e non. E vedremo quali saranno le ultimissime notizie in casa pistoiese appunto sul futuro, che c'è appunto tutto da scrivere del club arancione. Adesso però noi passiamo dal calcio al basket, perché in casa estrapistoia invece si sorride per la situazione che riguarda appunto i biancorossi in campo, ma anche extracampo. Sono tante le iniziative del club biancorosso quest'anno dal punto di vista della socialità. In questo caso sono state presentate le maglie da gioco speciali in occasione della Giornata Mondiale della Terra, al servizio di Leonardo Cecconi. Siamo nell'antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia, dietro di me le maglie realizzate in collaborazione con gli studenti dell'Istituto Petrocchi di Pistoia. Le maglie che Pistoia Basket indosserà nelle prossime due partite, quella in casa Contoblindisi e quella a Trento, per la Giornata Mondiale della Terra, che si celebra proprio il 22 aprile. E qui queste due maglie celebrative che richiamano anche la Razzo Millefiori, una delle opere più importanti che ci sono a Pistoia. È un progetto veramente molto bello, al quale abbiamo lavorato in questo periodo e siamo orgogliosi oggi di presentarla ufficialmente, soprattutto perché la indosseremo per ben due partite. La maglia alla fine prende ispirazione alla Razzo Millefiori e tant'è che, come potete poi ben vedere, richiama questo disegno su tutta quella che è la maglia, proprio nei suoi toni diciamo visivi, grafici e stilistici. Questo bando nella scuola che faccio l'artistico, l'Istituto Petrocchi, c'è stato questo bando dove bisognava unire appunto a Razzo Millefiori, quindi Pistoia e Musei, con il rispetto del green, Giornata Mondiale della Terra, Pistoia, e è venuto fuori un po' quello che avete visto. Vengo al palazzetto e mi piace un sacco, sono super contento di come stanno andando e sono tantissime soddisfazioni che non mi aspettavo, ecco. Quindi una grande emozione sarà vedere la tua maglia per le prossime due partite? No, infatti è assurdo, se ci penso che sarò anche lì a vederla, sarà stupendo. Ti abbiamo visto attore in questo bellissimo progetto? Un video bellissimo e sono stato molto felice di fare l'attore in questo progetto veramente importante e famoso. Un messaggio in per questa collaborazione inedita che si è avviata quest'anno e il messaggio è valorizzare il territorio attraverso la forza dei giovani, l'arte e lo sport. Anche un messaggio di apertura dei musei a tutti i pubblici, a nuovi pubblici, appunto quello dello sport e quello dei giovani e quindi speriamo che con questa collaborazione possiamo condividere un messaggio dove l'arte e lo sport e la cultura possono davvero parlare a tutti. Questa è l'iniziativa sociale di Estrapistoia come vi abbiamo detto in precedenza. Adesso torniamo al calcio però per una triste notizia che riguarda il mondo dell'eccellenza perché come sapete a seguito di quello che è successo nel fine settimana Mattia Gianni, giovane calciatore del Castelfiorentino, è deceduto dopo il malore accusato domenica scorsa in occasione della partita lanciotto campi proprio contro la sua squadra il Castelfiorentino, l'eccellenza ha deciso di non scendere in campo nel weekend di questo fine settimana e quindi non scenderanno in campo le squadre che interessano anche la provincia di Pistoia, stiamo parlando chiaramente della Valdinevole Montecatini e del Ponte Bugionese che militano nelle Girone A, non ci sarà abbiamo detto l'eccellenza che rimanderà quindi le gare da recuperare poi quindi scaleranno di una settimana in avanti, la 29esima giornata verrà disputata quindi domenica 28 aprile, trentesima giornata invece che slitterà a domenica 5 maggio, scalano delle settimane anche le gare playoff quindi previste per 12 e 19 maggio e i play out il 12 maggio. Adesso dal calcio al ciclismo perché l'Eroica Juniors sarà in diretta qui su TVL. Da domani giovedì 18 aprile e fino a domenica 21 aprile TVL trasmetterà in diretta la seconda edizione di Eroica Juniors, gara a tappe e appuntamento di spicco della Coppa delle Nazioni. La corsa organizzata da Eroica Italia scatterà da Punta Ala a Castiglion della Pescaia e si concluderà domenica a Chiusdino nel Senese dopo quattro frazioni particolarmente impegnative che interesseranno le province di Grosseto, Siena e Arezzo. Domani il primo appuntamento prevede la partenza dalle cronometro a squadra di 22 chilometri mentre nel pomeriggio è in programma una gara in linea di 89 chilometri con partenza d'arrivo a Castiglion della Pescaia. Venerdì 19 aprile la corsa approderà in provincia di Siena per una tappa di 110 chilometri che da Cinigiano-Grosseto porterà a Siena. Dalla città del Palio si ripartirà sabato 20 aprile con una frazione che si concluderà a Montevarchi, provincia di Arezzo, lunga 110 chilometri. L'ultima tappa di 102 chilometri è la stessa dell'edizione 2023 con partenza da Siena ed arriva a Chiusdino. La lista delle squadre iscritte è di livello mondiale con ben 19 formazioni nazionali, sei squadre di club straniere, una squadra di club italiana e quattro rappresentative regionali. Lo scorso anno vinse il norvegese Jörgen Nordagen, juniore tra i più forti al mondo e già nell'orbita dei corridori professionisti. La corsa sarà caratterizzata da alcuni tratti di strada bianca e TVL trasmetterà tutte le tappe in diretta dalle 15.15 circa in poi. Dal ciclismo passiamo al rally perché il Pavel Group sotto riflettori del 48esimo trofeo Maremma nella seconda prova della Coppa Rally di zona 7, la squadra pistoiese ha piazzato due vetture nella top 10 assoluta a Follonica, oltre alla vittoria di categoria per Mattia Giannini al debutto con la Clio Rally 5. Il Valdinevolino affiancato da Roberta Papini che ha chiuso la competizione con una vittoria di fregio. Questa era l'ultima notizia del nostro notiziario sportivo, io vi lascio le ultimissime del nostro telegiornale. Un saluto e una buona serata a tutti.